Ragazzi, buongiorno. Oggi, come vedete, siamo tutti, finalmente, ci siamo riuniti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, faremo le cartucce oggi, cioè le seppie, per poi andare a slow pitch a verticale, ragazzi, col vivo. Speriamo bene e ci vediamo in pesca. Dov'è Nadia? Vai, vai, vai. Tieni, tieni, tieni. Eh, che buono. È già la prima. Siamo così. Da quanto tempo marci? Dov'è? Dov'è saltato? Aspetta, aspetta. Di là, di là ha saltato. Bella questa, subito. Occhio. Vieni, pronta per l'innesco, pronta per l'innesco. Oh, per cammino pugno. Ah, ah. Ha pegato? No. Datemi un secchio che riempio la vasca. Vabbè. Per favore. Appena potete. Tant'è, mi voleva. Tant'è, mi voleva. Ah, come si sa, tu, cazzo. Ah, hai già sbondato. Come cazzo hai fatto? Tant'è, cazzo. Fala vedere in campo. No, che importanza. No. Meno male che non ho dolce. Eh, uca, cazzo. Soltola con tutto il guarino, tra. Guarda il cazzo che mi ha fatto a me. Chiudi il guarino. Chiudi il guarino. Oh, meno male che ti ho messo questo giubbino, che tanto è già sporco. No, ho sporco pure la sacca, vai porca. Chiudi il guarino. Puri il cornetto, Pietro, qui. Mettila in acqua, perché ce la muovo. Cazzo io già, papà. Io? Sì. Tutto quando mi ha. Vedi, vedi, sciogliate questa mano. Eh, guarino. Dammi quel guarino. Non lo fanno, va. Allora, dammi tutta la barca, Gioia. La barca? Non lo fanno, ma non lo fanno qua, gioco, eh. Stai usando. Meno male che non mi hanno messo il giubbino, no. Ti sa che, devi sapere, eh. No, ma se il babà è il caccao, è sempre, però. Sì. Ok, tieni il guarino. Mettila subito nella vasca, dai? Piano piano. Chiudilo, guarino. Chiudilo, vai. Fatta posta. Grazie. Subito una. Giusta, giusta. Più non prendiamo. Più non prendiamo. Non lo sai come hai detto. Vabbè, tu non l'avevi vista questa, bianco? Aniglia, tena. No, ho visto. No, ho visto l'interno. No, tre. No, staccate. No, c'è la mia di fanno, bravo paura. No, tre. Venga. Vabbè, va. Ma che c'è? Adattivo un esempio. No, tre. Oh, il grosso è qualcosa. No, la c'è. Ma questo era un esempio che tirava come una pazzia, era pure grosso. Era grosso questo. Eh, ma ci sono pure le c'è. Era grosso, che ti dava. No, un dente, no? Un tonno, di tutto. C'è? Esci, esci. È sagra, è sagra. È sagra. ragazzi la seconda l'abbiamo presa Pabletto con un due e mezzo Il nuovo l'ha fatto un'altra ragazzi non ne volete ragazzi ci siamo le seppie le abbiamo prese ora le inneschiamo eccola qua la prima era entrata e uscita di nuovo eccola qua ok già prese il checcane fujal alla fujal eccola prima Sì troppo a poco ce l'hai già? no la devo bucare mai no no aspetta no l'ho solo preso eccola ragazzi caldiamola subito subito ok qua siamo in pesca facciamo l'altra pallocchio GLC non c'è niente mamma sembra che di nuovo c'era la storia no no ecco qua ragazzi ragazzi io metto questo qui già sui 80 grammi arrivata G arrivata non stare troppo a terra tutto questo per rubare una candela eccolo il mitico sicuro vediamo vediamo eccolo che arriva è lui o non è lui è lui è lui è lui bello ragazzi con un gigatino eccolo qua vabbè mi hai convinto già ovviamente copro spenta una donzella una donzella però mi sa che la strappo ragazzi bellissima ragazzi ragazzi pesce in canna ecco eccolo che arriva cosa c'è serrano sì bello ah hai cambiato gig bello ragazzi ma questo è monoperso sì stane da slow sono quasi tutte monoperso al massimo offset vai pesce in canna pesce in canna ennesimo serrano per la cena abbondante a questo punto di cos'è una perchia serrano bello però ultimo pesce ah sì bello bello noi stiamo chiudendo ma stasera mangi vai vai sexy lady ecco ragazzi altro pesce ormai pro staff giuseppe calicunnan che questa volta fallisce pescicelli eppure di perde aia ragazzi la pescata termina ora vi faccio vedere il pescato di oggi cercavamo la cernia ma non l'abbiamo trovata siamo comunque divertiti ancora schizzano ragazzi dai innescate attenzione preparate un telefono per la foto ci facciamo la foto a noi e poi la foto a loro ragazzi eccoli qua questa l'avamo tenuta appunto per innescarla infatti l'abbiamo innescata altrimenti la rilasciavamo le altre sono comunque di taglia questa è una bella seppiona ci salutiamo ragazzi con questo mare che adesso si sta un po' increspando ma è stato fantastico ci vediamo ragazzi alla prossima alla prossima ciao ragazzi